Nicola Daldello, una bellissima prestazione di riscatto della Sir Safi di Perugia contro una Atripalda che non mollava mai, avete avuto da fare abbastanza, siete andati avanti ma gli ospiti non mollavano e vi hanno superato, c'è stato da lottare, bei tre punti conquistati da Perugia. No, noi sapevamo che era una partita difficilissima, questi ragazzi dovevano salvarsi e quindi anche loro hanno giocato alla morte, è venuta una buona partita, noi abbiamo giocato bene e per fortuna abbiamo vinto. Adesso manca veramente poco per festeggiare un grande traguardo, sicuramente ci sono due partite, i favori del pronostico sono sempre tutti per Perugia, ma che cosa è importante in questo momento? Adesso pensiamo a Corigliano e basta, è una partita difficile, è una trasferta lunga, è una squadra che si deve ancora salvare e quindi sarà un'altra battaglia come è Molfetta, come è stasera, ci aspettiamo questo. Oggi è andato veramente tutto bene, con la tua distribuzione di gioco l'attacco ha avuto il 63% di efficacia, direi che una prestazione superlativa anche se l'ostacolo di fronte non era nei massimi livelli. No, no, bravissimi i miei compagni di squadra, stasera sono andati tutti molto bene e questo ci ha permesso di fare tre punti. Grazie, è tutto da Pieneta Volley.